L'importanza del movimento cattolico tra 8 e 900 è una metodologia di ricerca storica nella quale la religione viene riconosciuta come uno dei motori della vicenda umana e non come mera sovrastruttura secondo l'interpretazione marxiana. Fausto Fonsi, scomparso venerdì scorso all'età di 89 anni, è stato uno degli storici che nel corso del XX secolo ha coraggiosamente sostenuto e fatto penetrare nella ricerca queste posizioni. Pur con sfumature diverse, Fausto Fonsi, Gabriele De Rose e Pietro Scoppola sono stati maestri che ne hanno dimostrato la validità in un mondo accademico stretto tra il metodo crociano e quello marxiano. In particolare Fonsi, con studi di grande interesse come Crispi e lo Stato di Milano o i Cattolici, la società italiana dopo l'unità, ha messo in evidenza la fondamentale importanza del movimento cattolico intransigente, quello cioè che si opponeva allo Stato liberale unitario come culla indispensabile per la crescita e lo sviluppo dell'impegno dei cattolici nella società italiana nel corso del Novecento. Studi essenziali per capire la società e la politica italiana del XX secolo con l'affermazione ad esempio della democrazia cristiana, ma studi anche spesso sottovalutati da una storiografia e da una pubblicistica ancora in gran parte di marca azionista gramsciana, sia in ambito accademico. Fonsi è stato per anni titolare della cattedra di storia dei partiti politici nella facoltà di lettere alla Sapienza di Roma, sia in quello giornalistico, sintomatico che a dare notizia della sua scomparsa siano stati solo avvenire ed osservatore romano, nessuna riga sugli altri quotidiani.